Stefano, anche una partita difficile da commentare perché più volte avete fatto break importanti e alla fine il Reggio Calabria è stata brava a rientrare e poi cosa è mancato? Poi parleremo a parte dell'infortunio di Alessandro. Sì, vabbè, l'oggi abbiamo fatto due o tre break importanti, più 12 del primo tempo, più 10 due volte e loro, la seconda volta nel terzo quarto, mi sembra, hanno fatto due bombe consecutive anche forse un po'... Carnovario sappiamo che si sa accendere in quel modo lì siamo stati bravi in tante occasioni a non fargliele prendere, ha fatto quella seconda bomba come aveva fatto la prima vitale, si sono riavvicinati subito e quindi dopo la partita è stata punta a punta insomma non siamo stati bravi ma a tenerli sotto, loro sono una scuola esperta quindi vabbè, è normale. L'infortunio di Alessandro Potin, tanto come sta il ragazzo? Perché da quello che abbiamo visto immaginiamo che il setto nasale sia rotto perché sono state fatte proprio le operazioni per ridurre la frattura in campo. Allora, come sta? Non lo so perché non ho parlato sicuramente, come hai detto tu, il naso era sicuramente rotto e poi l'infortunio, se mi posso appigliare l'infortunio perché onestamente Alessandro sta facendo una partita difensivamente, offensivamente mostruosa, migliore in campo in assoluto e quando eravamo più tre, più quattro con la palla in mano si fanno fare male a lui naturalmente sicuramente non siamo stati fortunati noi come squadra e mi dispiace tanto per il ragazzo perché sta facendo una gran partita e soprattutto ha avuto un infortunio serio.